Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, buonasera agli insegnanti che sappiamo numerosi e sappiamo anche sparpagliati, questo ci piace perché siamo riusciti a diciamo aggregare attorno a questo percorso gli insegnanti di ogni livello, sappiamo anche alcuni insegnanti di scuola materna e questo a me personalmente che adoro lavorare con i bambini piccoli è veramente una cosa che mi rincuora. Terzo appuntamento, qui sarò io a fare un ragionamento sempre sul tema della comunicazione, della divulgazione scientifica e come in qualche modo aiutare a farla entrare, oggi parleremo come come sceglierla, come anche organizzarla, è uno dei miei diciamo auspici, quasi un sogno e che nelle biblioteche scolastiche ci siano degli scaffali di scienza così come ci dovrebbero essere in in tutte le librerie e possibilmente non come capita di vedere ahimè molto spesso con libri di esoterismo o pinzillacchere varie mescolate nei libri di scienza, quindi oggi proveremo a ragionare su come scegliere e come accorgersi quando una comunicazione scientifica, quello che ci sembra essere una comunicazione scientifica, è una buona comunicazione scientifica. avremo anche una sorta di ospite, Gimmar Calini che è un fisico e un divulgatore, in Italia ha pubblicato già una decina di saggi, quasi tutti con Bollati Boringhieri e ci ha mandato un video che incastreremo a metà strada circa e questo ci aiuterà a contestualizzare meglio alcuni discorsi perché ovviamente scegliamo di sentire sia la voce dei protagonisti, nel senso di chi fa la comunicazione, io come giornalista scientifico e tutti gli editori che ci stanno sostenendo e che interverranno con i loro autori nelle prossime edizioni, ma anche chi la scienza la produce, la maneggia, cioè gli scienziati, le scienziate, dopo Telmo Piovani e Daniela Lucangeli abbiamo appunto Gimmar Calini e di fatto in ogni puntata vi accorgerete che abbiamo anche la voce in prima persona di un ricercatore, di un esponente della ricerca scientifica. Come sempre sul salto più avrete la possibilità di fare domande, io cercherò appunto di tenere d'occhio e di eventualmente interrompermi o raccoglierle tutte in fondo, al termine del nostro appuntamento daremo la terza parola chiave per poi accedere ai contenuti di tutto il corso, questo riguarda chi ci segue in quanto iscritto e dico un paio di cose in più di me perché poi chiaramente ho lasciato precedenza alla presentazione dei nostri ospiti, ci tenevo a dire due cose per prima che mi ascoltiate. Io sono un giornalista di formazione e ho cominciato 35 anni fa, ancora con le macchine da scrivere e entrando nei laboratori di ricerca, specialmente quelli in cui si occupa di tecnologia e percorrendo un po' tutta l'evoluzione del mondo della scienza della tecnologia negli ultimi 35 anni, dove sono cambiate tantissime cose. Io stesso sono passato dalla macchina a scrivere ai telefonini e a TikTok, quindi la mia carriera, la mia parabola professionale è ovviamente si è accompagnata con le parabole, con la crescita della scienza e della tecnologia. Da tempo non faccio più il giornalista in senso stretto, l'ho fatto per una quindicina d'anni, lavorando per quotidiani e per la televisione, e da una ventina d'anni invece faccio il divulgatore scientifico. Sul mio biglietto alcuni anni ho scritto sparpaglio passione per la scienza, perché poi è in fondo questo che mi interessa, che le persone siano appassionate di questi argomenti e mi piace provare a raggiungerli in ogni situazione, quindi dai festival della scienza, per chi di Torino o del Piemonte si ricorderà, Experimenta, che è una fantastica mostra scientifica interattiva estiva, il festival della scienza che frequento ogni anno da vent'anni, altri festival, i musei con cui ho collaborato, anche la comunicazione istituzionale di alcuni enti o di alcune aziende, perché ovviamente anche le aziende che hanno un core business tecnologico, scientifico, hanno bisogno e piacere di comunicare il loro mestiere, perché questo mestiere è importante per l'utente finale, al di là del vantaggio operativo. Ho un corso all'università e insegno a Torino comunicazione della scienza e faccio anche alcune lezioni alla scuola Holden, proprio sulla creatività, su come lavora la mente dello scienziato, perché chi si appresta a fare un mestiere artistico, appunto chi frequenta la Holden mira più o meno questo, e magari fa anche qualche ragionamento su come accade, come succedono le idee, la creatività nella testa degli scienziati, quindi abbiamo anche un po' di ragionamenti, un po' di neuroscienze, come sentivamo la volta scorsa con la professoressa Lucangeli. Gima Alcalilli ve lo presento poi fra un attimo meglio, quando introdurremo il suo video. E appunto avremo due parti, io ho subito tre piccoli disclaimer, così cerco di farvi ascoltare con le orecchie settate nel modo giusto. Allora, il primo, io avrò una serie di riferimenti, fra una serie di eventi, con i libri di testo, i libri scolastici. Non ce l'ho con l'editologia scolastica, non ce l'ho con i libri di testo, i libri di testo fanno quello che devono, poi lo fanno bene e lo fanno male, ognuno di voi docenti avrà scelto quello che troverà più opportuno. L'editoria scolastica italiana e in Italia è un settore molto importante dell'editoria, fa il suo mestiere e quindi noi in questo corso stiamo cercando di accostare ai libri di testo, che poi ognuno di voi sceglierà nel modo più opportuno e libero, altri libri che fino adesso magari non sono visti come possibili sostegni, accompagnamenti, affiancamenti di quello che è il libro di testo. Lo abbiamo un po' già accennato, ma l'obiettivo è quello di integrare il libro di testo perché per la sua natura non è attualissimo, cioè ha sempre uno, due, tre anni di gap rispetto, ovviamente parlo di libri di testo di scienze, tecnologie e materie scientifiche, rispetto al punto in cui è arrivata in quel momento la ricerca scientifica o al problema che la scienza in qualche modo ha, diciamo, evidenziato e che è diventato un problema di tutti. La plastica nei mari, che da 7-8 anni è giustamente un problema sempre più sentito, nei libri di testo ci è entrato negli ultimi due o tre anni. 7-8 anni fa era un fenomeno che veniva raccontato fuori dai libri di testo, però a scuola chiaramente ci arrivava. Ecco perché di nuovo i libri di divulgazione possono essere più veloci a stare dietro all'attualità. E poi i libri di testo hanno bisogno di seguire una struttura e seguire anche una linearità all'interno della disciplina che trattano. Molti libri di testo stanno facendo giusti sforzi di interdisciplinarietà, però fino a un certo punto, perché chiaramente ci sono altri libri di testo in quella materia. E poi i libri di testo non vanno verso le discipline non scientifiche, quindi un manuale di chimica certo mi parla di fisica, può parlare anche di geometria in certi casi, perché la molecola tridimensionale può, diciamo, riportare a delle conoscenze più tipiche della geometria. Però è difficile che si avventuri a parlare di Dante, di Napoleone, di guerre, eppure la chimica è sempre stato uno dei vantaggi che un esercito poteva mettere in campo quando si appostava a una battaglia. E la scienza, al di là della scienza molto, diciamo, asservita ai militari, come siamo abituati dalle bombe atomiche in qua, è sempre stata comunque una disciplina che i potenti di turno hanno usato per il loro vantaggio sociale, economico, politico, militare, eccetera, eccetera. Ma su questo ci torniamo. Quindi farò riferimento ai libri di testo facendo vedere più che altro come i libri di divulgazione possono incastrarsi. Secondo di Stramer io tendo a essere molto schietto a dire le mie opinioni. Ovviamente le separo da quelli che sono dei dati, dei fatti. Ci tengo qualsiasi opinione che mi verrà da dire, alcune le ho già pensate, altre mi verranno forse sul momento, magari rispondendo alle vostre domande. Ovviamente sono opinioni mie, personale, di Andrea Vico. Sono un libro professionista e quindi non voglio impegnare in questo né sono del libro, il circo dei lettori o il Cepel. Quindi mi prendo la responsabilità totale e piena di tutto quello che dirò per quanto riguarda le opinioni personali. E a proposito di questo il terzo disclaimer, che in realtà è un piccolo spoiler e che un pochettino me la prenderò con l'ordine dei giornalisti, perché io appartengo all'ordine dei giornalisti, mi occupo anche di fare i corsi di formazione, di aggiornamento della piattaforma, di aggiornamento professionale dei giornalisti, però ci sono dei problemi quasi strutturali che vi farò notare, con rispetto verso tutti i miei colleghi però con l'auspicio che l'ordine in quanto governance possa accorgersi un po' di più di quello che accade, ovviamente per quanto riguarda il mio settore la comunicazione, la scienza, il giornalismo scientifico e possa sottolineare, fare anche se serve qualche tirata d'orecchie, perché ne va della democrazia, cioè nel senso che una buona e libera informazione, ben costruita, ben fatta, chiaramente aiuta una democrazia a essere più forte, più salda, più vispa e quindi affrontare i problemi in maniera più robusta. Allora, possiamo condividere le slide? Grazie. Perfetto. Ecco qua. Partiamo da quello che è stato un pochettino il viatico fin dall'annuncio di questo corso, siamo obbligati a capire. E questo lo sottolineo ogni volta. La cultura della delega, vabbè, ci penserà qualcun altro? No, purtroppo non va bene, non è mai andata bene ovviamente, però è importante che oggi i nostri ragazzi a scuola possano ricevere tutta una serie di stimoli accanto a quelle che sono le lezioni e che io do per scontato, che siano seguite, che siano fatte per bene, che siano un po' oltre il programma scolastico, perché dobbiamo capire, abbiamo un mondo che si sta aggrovigliando, che ha tutta una serie di inerzie, perché la fisica, la fisica del clima ha la sua inerzia, io non posso pensare di viaggiare a 130 chilometri di l'oro in autostrada, vedere il casello, avere tutti gli annunci, guarda che fa 3.000 metri il casello, 2.000 metri il casello, 800 metri il casello e non cominciare ad accelerare, a rallentare, a togliere il piede dall'acceleratore e ad arrivare al casello per fermarmi nel modo più morbido possibile per me, per i miei passeggeri e altrimenti se non lo faccio mi schianto e quindi noi siamo in questa situazione, abbiamo tutti gli avvisi che il casello sta arrivando, dobbiamo decelerare, dobbiamo fare tutta una serie di gesti che non significano smettere di viaggiare o cambiare la qualità della vita del nostro viaggio, ma farlo con gesti diversi. Quindi questo è un po' il punto di partenza e questo è esattamente quello che si propongono di fare moltissimi dei libri di divulgazione che cerchiamo di raccontarvi. Nell'ultima parte dopo il video ci sarà anche una piccola schematizzazione che aiuta un pochettino a capire qual è il panorama oggi dei titoli di divulgazione scientifica per bambini, bambine, ragazzi e ragazze e per adulti che però possono essere anche molto utili sia per l'aggiornamento professionale vostro che per i ragazzi più grandi, 18 anni, 19 anni e gli ultimi anni delle superiori e proveremo a dare un po' un piccolo inquadramento generale. Perché dobbiamo capire? Perché dobbiamo decidere e quindi avere questa informazione che di là o l'acqua oppure a 9 chilometri o oppure H2O, la molecola dell'acqua a 50 metri, questo effettivamente è quello che capita. Poi i social ci mettono la loro nel essere un po' mistificatori da un lato e annebbiare un pochettino la lucidità del ragionamento dall'altra, però questo è quello che dobbiamo assolutamente imparare a fare su tutto perché si tratta di nuovo della libertà di scelta. Io volevo fare il mio ragionamento facendo una piccola ricognizione dei luoghi e dei protagonisti di quella che chiamiamo comunicazione della scienza. Poi si può usare comunicazione, divulgazione, dissemination, insomma ci sono tante parole che si possono utilizzare. Ovviamente l'editoria è una parte della comunicazione della scienza, così come lo è il giornalismo, così come sono i social network, la televisione, i podcast, le serie, i documentari. Quindi ovviamente siamo in una situazione in cui mille canali, mille strumenti di comunicazione ci raggiungono quotidianamente e ovviamente in questi strumenti possiamo trovarci argomenti di scienza che in quel momento con quella caratteristica, con quella dinamica arrivano al fine a noi. Se andiamo appunto a osservare questi due elenchi, ovviamente li leggiamo in parallelo, diciamo in maniera sinottica, abbiamo che i luoghi dove la scienza nasce, nei laboratori, e dove comincia a comparire, a essere fruibile, a essere raggiungibile, quindi i convegni, le riviste nicchia, le riviste più allargate, le riviste di divulgazione scientifica, quelle più alte, quelle un pochettino più pop, eccetera, eccetera, fino ad arrivare chiaramente alla tv o ai social network per essere più ampi possibili. Non aumenti il social network perché dall'altra parte ovviamente abbiamo chi sono i protagonisti della comunicazione, cioè chi la agisce. Ovviamente i social network non hanno un editore, non hanno un singolo, diciamo, autore che poi viene, diciamo, confezionato con un prodotto che chiamiamo libro, che chiamiamo podcast, eccetera, eccetera, nei postcards, pardon, nei post e in qualsiasi alta comunicazione social tutti dicono quello che vogliono nella forma in cui vogliono. Quindi questo chiaramente è un caso in cui la comunicazione della scienza arriva sicuramente a noi, però diciamo non è quello che noi possiamo in qualche modo cercare di prevedere, ovvero andiamo a riconoscere in questo elenco quali sono i punti di forza e quali eventualmente gli anelli deboli, perché in questo modo io che poi sono in classe e che voglio usare al di là dei libri occasioni per ragionare sull'attualità scientifica posso magari aiutarmi a orientarmi meglio. Ovviamente in alcuni casi si parla di editoria vera e propria sotto forma di libri o sotto forma di riviste. L'editoria comunque è anche online e quindi così come ci sono i book o pdf, ci possono essere anche, lo vedremo per esempio la prossima volta, dei materiali editoriali a tutti gli effetti che sono fruibili dalle pagine educational di un sito di ricerca scientifica. Anche quello è un prodotto editoriale perché dietro quell'istituto si è dotato di una redazione di autori, di disegnatori, di grafici che hanno confezionato quel prodotto che arriverà in classe attraverso la LIM, posso immaginare, ma è un prodotto editoriale poi a tutti gli effetti. Quindi questa è un po' una scaletta dove in alto abbiamo diciamo l'origine, il punto di partenza di un'informazione di una notizia scientifica e sulla colonna di destra ovviamente chi in quel momento la maneggia, cioè quella notizia, chi la lavora, quella comunicazione, chi è l'artefice di quella comunicazione e vedrete e vedete guardando appunto la colonna di destra che prima per una prima parte diciamo degli step, non voglio dire dall'alto verso il basso ma comunque dall'origine verso l'universo mondo, dal singolo laboratorio verso tutto il pubblico, i primi attori della comunicazione scientifica sono gli scienziati stessi, che quindi sono i primi a comunicare e a pubblicare. Dopodiché entrano in gioco dei professionisti della comunicazione, che a volte sono gli scienziati stessi che diventano anche ottimi comunicatori, Alcalini lo racconterà ed è uno di questi, vi presenteremo una serie di situazioni in cui lo scienziato o la scienziata si è trovato un po' per passione, per qualità personali o anche a volte un po' torto collo a comunicare il suo lavoro e poi entrano delle figure di comunicatori professionisti che non sono anche ricercatori, magari lo sono stati, in certi casi capita un cambio di carriera, oppure nel mio caso io non ho mai messo piede in un laboratorio di ricerca, non ho nemmeno una laurea scientifica, io ho studiato lettere, però appassionandomi al tema e trovando urgente comunicare quel tema mi sono strutturato, mi sono messo a studiare e ogni volta che affronto un nuovo tema studio. È chiaro che alcuni temi che conosco da 30 anni, come il tema dell'energia, non li devo studiare ogni volta da zero, però riesco ad orientarmi, avendo sempre però lo scienziato di fianco. Io ogni cosa che scrivo cerco di verificarla con lo scienziato, la scienziata più adatta a quella verifica e quella che ne sa di più. E questo è un'abitudine che il giornalista di solito fa, si chiama controllo con le fonti o controllo delle fonti, e quindi di fatto i giornalisti scientifici sono poi il primo orecchio, i primi occhi che stanno vicino allo scienziato che è pronto a comunicare, che entrano nel laboratorio per comunicare la scienza. E questi giornalisti hanno, come sempre, come tutti i giornalisti che fanno un mestiere particolare, hanno una preparazione specifica, perché entrano in un mondo che ha delle regole, ha delle dinamiche, ha degli attori principali, degli attori secondari, quindi io devo sapere come muovermi, ma su questo ci torneremo fa un attimo. E pian piano i giornalisti scientifici diventano sempre meno, perché ovviamente questa, questa, la notizia, le notizie arrivano su testate più generaliste, arrivano fino alla televisione del pomeriggio, quella che magari abbiamo guardato fino a pochi istanti fa, prima di collegarci qui, dove non è nemmeno un'attestata giornalistica, è un programma di intrattenimento, di cultura generale, di approfondimento, con tutte le direttrazioni possibili e immaginabili, ma in cui comunque di tanto in tanto la scienza fa capolino. E lì non ci sono nemmeno più giornalisti che scrivono, come potrebbe essere un telegiornale, come potrebbe essere una trasmissione di approfondimento serale, ma sono autori, cioè persone che hanno la capacità, la preparazione, la competenza di scrivere quelle cose che poi il conduttore, la conduttrice andrà a leggere, di organizzare il palinsesto, di far arrivare quello, quell'altra ospite, eccetera, eccetera. Anche su questo ci soffermeremo, perché sono delle differenze che bisogna cogliere, imparare a cogliere e insegnare a cogliere, quindi chiaramente tutto questo, mi auguro, possa essere trasferito ai vostri alunni. Andando a focalizzare, qui abbiamo appunto il predominio, ma non in maniera, semplicemente per opportunità, della comunicazione fra scienziati. E gli scienziati, l'abbiamo visto con la prima lezione, che spero poi possiate riascoltare, perché sono lezioni molto dense e chiacchierate molto dense a quelle che fanno sia Pievane che Lucangeli, e quindi magari riascoltarla sicuramente aiuta, però Telmo Pievane diceva proprio questo, gli scienziati parlano un sacco fra di loro, si confrontano, e si confrontano anche con gli esperimenti, con i numeri, non solo con le teorie. E questa è una cosa moderna, perché fino al 500-600 bastava l'idea, cioè io ho un'idea, te la racconto abbastanza bene, ti convinco, la mia idea va. Noi siamo pieni di teorie scientifiche, tra virgolette, proto-scientifiche, che in realtà erano completamente sballate. Nel 500-400 si discuteva su quanti denti dovesse avere un cavallo, ma nessuno andava a guardare il cavallo in bocca. Quindi la parte sperimentale è un'attività moderna che viene da Galileo in poi, l'abbiamo detto, lo studiamo anche su libri di testo. E quel metodo scientifico rafforza la discussione e rafforza il confronto. Gli scienziati ovviamente partono a dialogare dai loro colleghi più vicini, il compagno di scrivania, il collega di laboratorio. Nei laboratori scientifici c'è molta, c'è molto l'abitudine a, una volta a settimana, una volta al mese, raccontarsi e dire ok, ma in quel laboratorio tu che stai facendo, raccontami. E quindi ci sono una serie di presentazioni informali, interne, anche con gli esperimenti ancora in corso, perché fertilizzarsi a vicenda con le idee, con i dubbi, aiuta tantissimo e mille volte gli scienziati hanno raccontato come su un blocco che avevano su un esperimento il collega che si occupava di tutt'altro gli ha dato un punto di vista diverso, perché si sono confrontati, perché avevano l'abitudine a farlo. Poi man mano che, diciamo, ci si allarga, si allarga al cerchio, io comincio a confrontarmi con altri scienziati al mio stesso ambito, magari di altri laboratori nei convegni, che sono nient'altro che la versione moderna delle accademie delle scienze, ci torniamo a fa un attimo, e soprattutto in luoghi dove, e questa è una novità, diciamo così, anche un gesto volontario, una strategia di comunicazione dell'Unione Europea, per esempio, dove vado apposta per incontrare altri scienziati, perché il rischio della comunicazione di uno scienziato è che avvenga all'interno della sua nicchia, all'interno della sua ambito ristretto di lavoro. E visto che la scienza per un certo periodo è diventata sempre più settoriale, tant'è che io posso dirà, ero a cena con un fisico, e fisico de che? Delle particelle, dell'energia teorico, sperimentale, dell'atmosfera, cioè fisico o scienziato è come dire medico, io posso andare da un medico perché, o meglio, posso sentire male al ginocchio perché ho sbattuto contro lo spigolo e vado da un medico, ma se il medico è un oculista e non è un ortopedico, mi dice guarda ti cambio occhiali Andrea perché evidentemente non hai visto lo spigolo, ma del tuo ginocchio io che ne so. Quindi anche su questo, appunto, questa necessaria specializzazione, andare sempre più nel dettaglio, ha portato a una deriva che dal punto di vista della comunicazione è stata un po' frenata e quindi ci sono tutta una serie di appuntamenti, l'ESOF, European Science Open Forum, che ogni due anni si tiene in Europa, raduna 4-5 mila scienziati in una città d'estate per una settimana e si parlano fra di loro e parlano con il pubblico, quindi l'ESOF è una sorta di grande festival della scienza e di assise scientifica interdisciplinare contemporaneamente, che viaggia per le capitali europee, l'Italia l'ho già capitato due volte a Torino e a Trieste e serve per scambiarsi idee, anche perché gli scienziati, come tutti noi, non abbiamo tempo di leggere tutto, leggiamo le cose della nostra materia per il nostro aggiornamento, leggiamo le cose che ci appassionano, ma essere informati su tutti è un lavoro, su tutto è un lavoro. Quindi questi tre ambiti sono quelli in cui c'è la comunicazione più d'avanguardia, grandissimo fermento, grandissima attualità, però c'è il limite della circolarità delle informazioni, più di tanto non escono e anche se vado io a parlare, ad ascoltare in questi rubressi, cioè il giornalista scientifico ci capisce relativamente poco, perché giustamente gli scienziati parlano la loro lingua fra di loro ed è anche importante che avvenga questo. e poi c'è appunto il problema che, che non è un problema, la caratteristica che gli argomenti stanno ancora, diciamo, strutturandosi e quindi molti scienziati non è che sono resti a parlare con il giornalista o non il grande pubblico, però, come ogni persona seria, dicono ok, prima finisco di studiare e poi ti dico. Quello che è successo durante la pandemia, dove si discuteva anche, diciamo, in diretta di alcuni esperimenti, non è una cosa normale, è necessario perché era talmente urgente arrivare a un vaccino o capire meglio come funzionava una variante, come si muovevano, incrociare i dati che ogni paese raccoglieva, che sia un po', diciamo, forzata la mano sul fatto di parlo quando ho finito di fare gli esperimenti e ho finito di studiare. Perché in qualche modo l'emergenza ha, di comune accordo, ha fatto, diciamo, invitato molti scienziati a discutere dei dati ancora non completamente stabilizzati. Però la regola è quella che, quando ho finito di fare gli esperimenti, mi sono confrontato a lungo, ho avuto il peer review, diciamo, il commento, la revisione dei miei pari, allora posso cominciare a parlare con tutti. Ricordandoci sempre che domani arriva un nuovo esperimento e la cosa che ho detto oggi può essere modificata, che non vuol dire che mi sono sbagliato, vuol dire che abbiamo aggiunto un pezzo. E anche questa è una cosa che bisogna tenere a mente e che spesso, ahimè, i miei colleghi giornalisti di Conaca, diciamo, non ricordano abbastanza. Quindi il metodo scientifico è un processo, non è l'opinione di un singolo personaggio, ed è soprattutto il frutto, la sintesi del lavoro di centinaia o di migliaia di persone. Quando sentite lo scienziato che, diciamo, esce da questo schema, verificate se è uno scienziato vero, perché a volte non lo è. Oppure lo è, ma ha un po' bizzarro che non è proprio nel suo e quindi ha più, diciamo, il desiderio narcisistico di un'esposizione mediatica che, diciamo, ha la volontà di fare bene il suo lavoro. Questa è una bellissima sintesi, sembra un codice a barre colorato, in realtà è semplicemente la visualizzazione dei dati del clima, cioè le medie climatiche, i dati meteorologici raccolti dal 1850 al 2021, dal 1850 perché quello è l'anno in cui l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia ha, diciamo, decretato che da quel momento in poi avevamo dati raccolti in maniera omogenea, univoca, in tutte le parti del mondo e quindi potevamo fare delle classifiche davvero mondiali. Prima i dati erano discontinui, disomogenei, alcune zone di più, altre mancavano proprio, quindi erano delle classifiche locali, non delle classifiche mondiali e questo è quando, diciamo, il clima è cambiato e nel corso del Novecento abbiamo preso un grado abbondante e quasi un altro grado l'abbiamo già preso nei primi vent'anni del 2000, ecco, questo l'abbiamo visualizzato. Quindi qui c'è il lavoro di migliaia di scienziati che per 170 anni hanno raccolto i dati e altri scienziati che li hanno sintetizzati. Quindi a questo punto questo dato è stabile, ovviamente ci sarà il dato del 22, del 23, fra dieci anni e 2030 avremo una forse qualche striscia rossa in più, anzi senza forse qualche striscia rossa in più. L'esigenza di comunicare nella scienza è una storia antica. Monsieur de la Palisse, noi ci ricordiamo, la palissiano, ecco questo signore che è all'origine di questo detto, inventa le prime conferenze in lingua rustica. Il francese del popolo, 1575, scrive 1580 un trattato sull'acqua in forma di dialogo, il dialogo è una cosa che torna dagli antichi greci, dai filosofi greci a Galileo, eccetera eccetera, perché è una delle forme più semplici. Tu mi fai una domanda, io te la spiego, ci confrontiamo, quindi dal punto di vista narrativo il dialogo è perfetto piuttosto che il soliloquio. E semplicemente scrive questo trattato in forma di dialogo per aiutare le persone a non ammalarsi, a non prendersi in colera, a imparare a gestire l'acqua anche durante un parto e quindi far, diciamo, sopravvivere le puerpere e i neonati. Sempre al stesso periodo nascono quelle che si chiamano le Wunderkammern, le Camere delle Meraviglie, c'era sempre in qualche famiglia, il primo figlio chiaramente lo sposi bene e poi magari ti tocca mandarlo in guerra. La prima figlia la sposi bene, la seconda figlia la mandi monaca, il secondo figlio magari anche lui entra nel mondo religioso che fa sempre comodo. Poi uno va soldato, quarto, quinto, sesto figlio, vabbè, facciamogli fare gli esploratori, gli diamo un po' di denari e va in giro. Torna con un sacco di roba, con un sacco di roba esotica, di robe strane. Ok, abbiamo un paio di stanze nell'ala sud del castello vuote, fagli mettergli le cose, poi di tanto in tanto la sera andiamo a trovarlo e lui ci racconta dei suoi viaggi. Punto. Così nasce il museo. Le collezioni degli esploratori che tornano, le Camere delle Meraviglie, cose che non si sono mai viste, comprese chiaramente anche una serie di robe farlocche e di storie assolutamente inventate, ma pazienza, sono un tentativo di fare comunicazione della scienza perché l'esploratore che diventa sempre più scientifico nel suo viaggiare porta anche tutta una serie di reperti di animali vivi o in qualche modo impagliati di reperti di ogni genere che a un certo punto accumulandosi cominciano ad essere studiati. Darwin ha fatto quello, ha viaggiato cinque anni sul Beagle e per vent'anni nella sua casa nella campagna londinese ha messo a posto centinaia di casse di roba trovate in giro e mettendo a posto, vedendo il quadro d'insieme, mettendo a posto alcuni tasselli, quella che diventava il suo schema che pian piano stava intravedendosi, ha cominciato a delineare delle teorie. Cioè ci sono una serie di punti, di puntini che se uniti mi raccontano questo. Sempre pochi anni dopo, 1600, nascono le Accademie della Scienza. Prima la scienza era comunicata tra un monastero e l'altro, tra, diciamo, il castello di un mecenate e l'altro, in latino ovviamente, commissive che andavano così, in maniera puntiforme, da un amico all'altro che poi scriveva il terzo, eccetera, eccetera. Le Accademie della Scienza sono un luogo dove ci si ritrova, dove sono custoditi dei libri che sono spesso anche i nostri diari, e dove di tanto in tanto possiamo discutere. Ovviamente sempre in latino, ahimè, questo è, diciamo, il limite e il vincolo del tempo, però tutte queste Accademie delle Scienze, in Italia tra l'altro abbiamo quelle più antiche, nascono come luogo, come esigenza, come risposta all'esigenza dei scienziati di comunicare e di parlarsi fra di loro. Ovviamente qualcuno cominciava a scrivere in maniera meno criptica, ovviamente se parlo con i miei colleghi scrivo in latino e dico delle cose tra colleghi, se comincio a voler farmi capire, perché ne sento il bisogno, anche semplicemente per riconoscenza, è chiaro che devo cambiare tono e linguaggio. Quindi la lingua rustica di La Palis, o l'italiano in qualche modo comprensibile anche dai borghesi e non in latino, il libro di Darwin è scritto in un inglese semplicissimo, terza, quarta, superiore, potrei leggerlo in classe perché è veramente molto godibile, la forma narrativa, il dialogo e non il trattato, non il saggio, l'assenza dei numeri o i numeri e le formule ridotte ai minimi termini, sono gli ingredienti che permettono alla scienza, dalle accademie, dai centri di ricerca, dai laboratori e dalle pergamene in latino che andavano a sfuggire per l'Europa, di diventare qualcosa di pubblico. Poi ovviamente ci si mette anche la stampa ai caratteri mobili e quindi questi libri diventano assolutamente più fruibili. C'è la stampa invece periodica, questo giornale del Savant e anche il caffè di Piero Verri, ha quattro pagine dedicate alla scienza, quattro pagine su dodici, quindi un terzo del giornale dedicato alla scienza. Quale quotidiano oggi ha un terzo di ogni suo numero dedicato alla scienza, all'ambiente, alla tecnologia? C'è tutta una storia della comunicazione della scienza al femminile, come sempre la presenza delle donne nella scienza non era amplissima per motivi che purtroppo disdiciamo ma sappiamo, però c'è stata ed è stata anche molto importante nel momento in cui le donne si occupano di tutta una serie di preoccupazioni anche pratiche e quindi questa chimica, che non passa la storia come chimica anche se di fatto è stata una ottima studiosa di chimica, scrive appunto questo trattato di chimica caritatevole e facile in favore delle dame, imparare a fare alcuni saponi, temperature per bollire, per cucinare meglio, eccetera eccetera eccetera, perché la scienza una volta che si è capita durante un esperimento in laboratorio deve diventare utile a qualche parte. Ci sono poi ovviamente l'editoria, quella più, diciamo, libresca, libraria, l'epoca dei lumi, l'enciclopedia di De Rose, d'Alembert, l'enciclopedia delle arti delle scienze, quindi tutta una serie di opere strutturalmente nate per mettere insieme, guarda caso, arti e scienze in maniera anche molto intrecciata, quindi il concetto di racchiudere il sapere, quello del momento, ma anche il concetto di aggiornare, perché io mi rendo conto che specialmente la scienza galoppa e quindi ho bisogno di volumi che poi tengano conto delle novità e l'altra cosa che ci tengo sempre a raccontare è che da sempre gli scienziati hanno volentieri fatto, chiamiamole, delle dimostrazioni pubbliche. Questo è un astronomo francese, Jérôme Delalain, che andava su Ponte Neuve a Parigi, vicino a Notre Dame e tirava fuori da una tabacchiera un ragnetto, lo sventolava in modo che i passanti lo notassero bene e poi se lo mangiava. E poi tutti chiaramente erano stupiti, magari volevano soccorrerlo e lui tranquillamente, ragnetto innocuo, non ti fa assolutamente nulla, aveva lì il suo telescopio e diceva guardi signora, signore, date un'occhiata, vi faccio vedere le stelle, anche se siamo al crepuscolo, già si vede questo, quello, quell'altro. Quindi la dimostrazione pubblica con un po' di spettacolarizzazione, anche qui non è una roba moderna da Festival della Scienza o da YouTube, è una cosa che c'è sempre stata, Pastore la domenica faceva delle lezioni a teatro, lezioni teatrali in cui attraverso anche l'effetto scenico di alcuni esperimenti andava a spiegare perché non bisognava fare così ed era meglio a fare cos'ha. Ma per esempio, adesso lo sono andato un passo avanti, la Royal Society, che è una prestigiosissima organizzazione, un'accademia inglese, aveva dei momenti apposta per la divulgazione e per esempio nei suoi diari Faraday racconta che andando da ragazzetto Faraday era poverissimo e sempre stato spatrinato, salvato da una serie di zii, di parenti che lo hanno letteralmente sfamato da un lato e gli hanno permesso di studiare, ma sono state quelle lezioni pubbliche dell'Accademia della Royal Society a fargli accendere tutte quelle scintille che poi sono diventate un'attività di laboratorio vera e propria e hanno trasformato quel ragazzetto che poteva morire di fame per la strada di Londra in un vero e proprio grandissimo nome della scienza. E la mia domanda sempre, intanto mi corre subito il parallelo in classe, quanto noi potremmo fare di più utilizzando un po' di attività, diciamo, interattiva hands-on STEM, come si dice adesso, ma di questo ne parleremo nel prossimo incontro con delle testimonianze specifiche, ma soprattutto mi viene da dire, ma quanti Faraday ci siamo persi? perché questo è uno, ma tutti gli altri che in qualche modo non hanno avuto quella fortuna, quello sliding doors, come si direbbe oggi, di essere in quel momento al posto giusto, chissà quanti geniali, geni e geni della scienza ci siamo persi. Ci tengo anche, perché ne sono appassionato e qua dietro qualcuno forse ha già visto qualche libro importante nella storia della fantascienza, a pensare di immaginare tra le letture, tra i libri da portare in classe anche qualche libro di fantascienza, perché intanto la fantascienza nasce dalla scienza. Giù Verne, ma anche il quasi concittadino. Io abito, per curiosità ve lo dico, a circa un chilometro dalla casa di Salgari e qua a 500 metri a casa mia ci sono i boschi in cui Salgari inventava le sue azioni e faceva, immaginava le mirabilanti avventure di Sandro Canne e dei suoi loro fantasia e la loro lettura, la loro preparazione. Salgari andava alla Biblioteca Nazionale a Torino a leggere tutti i trattati di botanica, zoologia, di geografia, di viaggi, anche i resoconti di quelli che erano i sopravvissuti agli attacchi dei pirati e da lì poi creava dei mondi che sono assolutamente verosimili e molto spesso veri in ogni dettaglio. Quindi c'è una letteratura fantastica che attinge alla scienza specialmente quando la scienza o racconta l'esotico, il lontano, o racconta in qualche modo il futuro e altri poi che diventano veri e propri sostenitori, raccontatori delle vicende scientifiche tant'è che nella storia della fantascienza c'è un'origine tendenzialmente europea, tardo-ottocentesca ma subito arriva negli Stati Uniti dove invece la cultura tecnica e se vogliamo anche tutto dei mondi che erano da costruire da zero ha portato alla popular science, alla science fiction degli spazi anche a livello di riviste, di mensili, di racconti. Ovviamente questo ha portato a una specializzazione nel mondo degli scrittori e quindi abbiamo gli scrittori non scienziati come Axley, Verne, Salgari, ma anche degli scrittori scienziati, cioè che da scienziati poi sono diventati a un certo punto degli scrittori di fantascienza. Asimov sicuramente uno dei più famosi, ma Weinsberg, Slydard, Slydard scusate, insomma ce ne sono decine e anche oggi se pensiamo a Mancuso, a Mazzolai, a Viola, insomma tutta una serie di personaggi che sono scienziati importanti e che si dedicano anche alla scrittura a volte anche sconfinando in qualche modo nella narrativa e nella fantascienza. Eccola qua quella che abbiamo un po' decipato, appunto un disegno delle attività che si potevano incrociare nelle domeniche della Royal Society, questo diciamo che è tutto molto frizzante, molto interessante, lo schema però di fondo era un po' questo, quella che nel mondo degli studiosi di comunicazione della scienza si chiama comunicazione top down, cioè la scienza sta lassù e in qualche modo scende su una sorta di piramide o in buto, a rovescio, in cui qualcuno ne capisce un po' di più e pian piano il pubblico generico prende quello che cade. Questo è un sistema di comunicazione che ha dato i suoi frutti in passato quando i canali di comunicazione erano quelli, ovviamente era la bravura degli scienziati comunicatori che facevano la differenza, adesso da molti anni è stato proprio anche visto e allontanato dagli schemi di lavoro, di produzione dell'editoria, della comunicazione scientifica perché chiaramente lo scienziato, la scienziata è uno come noi che fa un mestiere speciale se vogliamo, particolare, ma bisogna un po' calarlo, farlo scendere dal suo pulpito, dal suo predellino. C'è qualcuno che ovviamente lo fa subito e lo fa con grande gioia e grande capacità di mettersi in gioco, quello che si chiama l'engagement, e altri che sono un po' più resti. Dipende un po' per culture, forse anche per un po' di anzianità. Diciamo che in Europa è un po' più raro trovarli, in Italia dove l'accademia ancora, insomma ci sono ancora un po' gli inflessi di alcune baronie del passato, trovare appunto questa voglia di mettersi in gioco fino a 40-50 anni è facile, oltre quell'età un po' più difficile come personaggi inclini alla comunicazione. La scienza, in certi casi, quali sono i limiti della comunicazione della scienza da parte degli scienziati? Che di tanto in tanto tendono a banalizzarla un po', perché hanno difficoltà in certi casi a capire a cosa raccontare a chi. Lo scienziato o la scienziata tende a vedere il pubblico come un unicum, e non come tanti sotto target, mentre il comunicatore ha questa prerogativa e dovrebbe averla, lo scienziato tende a percepire e a notare, diciamo, l'ignoranza del pubblico, che è vera, che è oggettiva, ma non è importante notarla, e a volte molti scienziati tendono a incaponirsi, a far capire qualche cosa, anziché dare, cioè un singolo passaggio, anziché dare il quadro d'insieme. E quindi, di nuovo, ci sono poi delle esigenze che i comunicatori riescono a, diciamo, scavalcare più facilmente perché non hanno questo meccanismo mentale, questo retaggio mentale degli scienziati. Sicuramente, nella comunicazione della scienza fino a 40-50 anni fa, il concetto di consenso scientifico non era così specificamente spiegabile, ma era molto rispettato, molto percepito. Adesso, invece, con un giornalismo un po' troppo slabbrato e disattento, e con soprattutto l'avvento del web e dei social network, tutti possono dire tutto, e quindi non ci percepiamo, cioè la voce dello scienziato è come la voce di mio cugino, quello con 3G, e quindi alla fin fine io ho, non percepisco bene quali siano le differenze di chi parla e di chi parla. Mentre sappiamo bene, e vogliamo ricordarcelo sempre, che lo scienziato, chiaramente quello competente, quello autorevole, quello che ha fatto un suo percorso, ed è tutto verificabile, che si mette a parlare della sua materia, in realtà non parla di sé in senso stretto, parla del suo mondo, del suo gruppo di persone, lui è semplicemente quasi un portavoce. E questo non è, non sempre si nota, ma anche su questo ci ritorneremo poi quando parleremo di dibattito nelle trasmissioni televisive. Qui mi fermo un attimo perché è il momento di ascoltare Jim Al-Khalili, che è un fisico, questo lo abbiamo già detto, e lavora all'Università del Sarai, ed è sia un fisico che si occupa di particelle, di nuclei, di universo, di meccanismi della grande fisica, ma è soprattutto anche un grandissimo divulgatore, oltre a essere docente di fisica all'Università del Sarai, è anche un docente di comunicazione della scienza nella stessa università, è membro della Royal Society, quella che diciamo prima, che ovviamente apprezza molto quando i suoi membri sono anche degli ottimi divulgatori e li usa per sostenere la cultura scientifica, come autore, lavora sia come giornalista, come comunicatore, lavora sia in radio che nei telegiornali, perché ha spesso interventi su Guardian e sull'Observer, è autore di alcuni documentari, invitato anche spesso in televisione per la sua capacità. ha scritto una decina di libri e anche un romanzo, i saggi sono, quasi tutti li trovate nella lista di Bollati Boringhieri, e adesso lascio a lui la parola e ascoltiamo la sua testimonianza. Hello, my name is Jim Al-Khalili, I'm a professor of physics at the University of Surrey in the UK. My background is as an academic, a traditional academic, so I teach undergraduate students, I carry out research in theoretical physics, more specifically in quantum mechanics and nuclear physics. But throughout my career, I've also been a science communicator. Now, in Italy, maybe slightly different from the UK, but in the UK, in recent years, certainly, science communication has become a very acceptable thing for academics to do. When I first began communicating science, talking to schools, talking to students, to teachers, talking to journalists, and even when I started writing my popular science books, some academics, colleagues of mine, warned me. They said, be careful, Jim, you are a respectable academic, you should focus on your research, on your publications, on research grants, going to conferences. Why are you going to talk to students and schools and journalists? Why are you writing articles in newspapers when you should be writing research papers? This was two or three decades ago, when I first started in the early to mid-90s. And I said, well, why can't I do both? Why can't I be a science communicator, but also still maintain my academic respectability? And I think now, certainly in the UK, this has become possible. It's OK to do that. And so for the last maybe 15 years, I have divided my time between normal university duties of teaching and research and administration, and being what I call a public scientist. So communicating science. People say, why do you communicate science? Are you doing it because you feel it's your duty or somehow that it's a responsibility of scientists? Actually, no, I do it because I enjoy it. I've always argued that if I discover something new, something fantastic about the universe, why would I want to just keep it to myself? Why would I just want to tell 10 people, experts who will read my scientific paper in a journal? Why not shout about it to everybody, anybody who wants to listen? I have always derived as much pleasure explaining science to someone, explaining some difficult concept and seeing them understand it as I have discovering it for myself. So this is why I carry out science communication. Now, I've done television. I have a radio program in the UK for the BBC, which is, has been running for 11 years now. And we get 2 million listeners every week. It's called the Life Scientific. I interview other scientists, mainly from the UK. But for example, I've had scientists from, from, from other, other countries that they're visiting. For example, the, the, the famous Carlo Rovelli, the, the Italian physicist, who's a friend of mine, he was in the UK. I had, he was on the program. So that has been very important because that's not a program aimed for scientists. It's aimed for the general public, people who listen to this BBC radio station, Radio 4. It's not a music station, it's just a talk, you know, news and documentaries and so on. These are people who just are listening to the radio, and they hear something about science. They hear that scientists are normal people, that scientists may be, they they struggled at school. They weren't naturally talented. Maybe they had problems, maybe they had mental health issues, maybe they had family personal issues. The interviews I conduct with the scientists is about their life and their work. So it's two aspects. One is to learn about the science. And the other is to find out about these people, that they're just normal scientists. And, and these are not just physicists and and chemists and biologists. I talk to, to, to psychologists and sociologists and, and, and geologists and, and ornithologists studying birds, scientists that I probably, who do, who work in an area of science that I know nothing about. And, and those are quite the, the nice interviews, because I'm asking them the questions that the audience, the listeners would like also to ask them. So I'm, I'm, I'm also one of the non-experts when it comes to their field. So I've done a lot of broadcasting TV documentaries. Many of my documentaries are on, on now on YouTube or on Amazon Prime or Netflix and so on. But I also write popular science books and my connection with, uh, uh, certainly with Italy, uh, uh, I have a very, uh, strong relationship with the Italian publishers, Bolati, Bolingheri, uh, uh, who have translated pretty much all of my popular science books into Italian. Um, and, uh, in fact, some of them, there's one, one of my, one of my books is actually has sold more copies in Italy than it has in the UK. So it's always, I always, uh, I enjoy when I'm visiting Italy on, on regular occasions, whether for work or holiday, I like going into bookshops to see if copies of my book are available. This is what authors do. You find a copy of your book and then you pull it out and you make it more, more prominent so people can see it and then you walk away. So my most recent book that has only just come out has just been translated into Italian. It's called the joy of science. Uh, part of it was the motivation to get across why I do science, why I think science is so wonderful, why it's such a, a powerful way for us to understand about the world. And there are many lessons I try and get across in this book. Um, for example, um, people think science is a collection of facts about the world, you know, the, the, the bones in your body or the, the elements, the chemical elements of the periodic table, um, or, 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 or something to do with, you know, the solar system. These are not science. These are just facts. That's called knowledge. Science is not a collection of facts. Science is a process. It's a way of gaining knowledge about the world. It isn't the knowledge itself. It's how we gain that knowledge. And it's a very reliable way of gaining knowledge about the world. You can argue quite rightly that there are many different ways of, of gaining knowledge and wisdom, not just through science, but through art and literature and poetry and, and, uh, uh, meditation. You may even argue religion or, um, talking to somebody who knows more than you or reading texts. There are many ways of, of learning about how the world is, but science has this big advantage. And in my book, the joy of science, I explain why science is such a powerful tool because it relies on what we call the scientific method, a rational way of coming up with a hypothesis or a theory, testing it against observation, against data, against evidence to see if it's true or not. But the scientific method and the way scientists are trained is much more than that. It's, uh, the way we do science. I, I, one of the main messages in my book is that everybody, even if you don't want to learn about genetics or black holes or, 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 or the Higgs boson or, you know, the, 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 the very sort of sexy areas of science, the scientific method itself is a useful tool that can help everyone think more rationally, make more, uh, 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 sensible decisions and judgments in everyday life. Why did I write the book? I will say something about some of those, uh, those methods, those lessons that I think are important, but I just want to clarify why I wrote this book and it links in with why I do science communication. I had always felt that there were two reasons that we, we communicate science. Well, actually, you know, three, one is which for you as, as science teachers is important. We have to inspire the next generation. We need the scientists and the engineers and the technologists of the future. And so communicating complicated science, the stuff that I do that, that should be in parallel with the, the general science education, that is your responsibility as teachers is a way of helping inspire pupils and students for them to see that actually the knowledge we can gain through science is wonderful. It's, it's, it's exciting and it's some, and it's something that can lead to a fulfilling career for them. The second reason is that society as a whole needs to have some scientific literacy. So society needs to understand some level of science in order to navigate through life. We need to understand why is it important to wear masks during a pandemic? Why is it important to get vaccinated? Uh, what can we do to tackle climate change? Um, is, uh, burning fossil fuels a good or bad thing? Is nuclear power a good or bad thing? Um, is recycling your waste a good or bad? There are things that, you know, that are, are not curiosity about the universe, but actually of practical importance to us. So we need to have some level of scientific literacy within society, as well as understanding things like probability and, and, and risk and, and, uh, uh, some numeracy skills. The third reason, which I've always felt probably for me was the most important, um, reason for doing what I do as a science communicator is because I had the ambition of embedding science into popular culture. I've always wanted people, if you're sitting in a bar or or having a coffee with friends and colleagues to talk about science or stories about science that maybe you've heard in the news in the same way that we will talk about football or politics or music or art or literature. Why shouldn't, uh, uh, um, a, a conversation about, uh, the latest discoveries in astronomy, uh, a distant galaxy that has been photographed for the first time. And what does it mean? It might not affect our lives in some way, but why can't we talk about that in the same way that we will talk about music or the opera or art or, or, or politics? Uh, it should be part of the conversation. We should not be afraid of talking about the world as being discovered by science, even though we don't understand the details. It should not be only left to the details. We, we talk about music. We can enjoy music, but we can't sit down and play a concert piano, or we can't compose, um, an opera, but we can appreciate music. We should be also be able to appreciate science and scientific discoveries, even though we're not practicing scientists. So those are the three reasons why I communicate to science. The fourth reason, which has really become clear to me since the pandemic. And that is, we need to explain how science works. What is it about science that makes it so reliable and, and, and why we should trust scientists when they tell us things. So this is what I describe in my book and the joy of science. Uh, for example, scientists admit when they make a mistake, if we, um, come up with, if I come up with a theory or an equation about, um, particle physics, and then an experiment is conducted that shows that my theory is wrong. I have to say, okay, my theory is wrong. I have to throw it away or modify it or, 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 you know, change in some way. I can't say, no, my theory is correct. I will not change my mind. You know, in science, making mistakes is, is, is fine. Admitting our mistakes is important. If we never admitted our mistakes, we would never progress. We would never develop. We would never learn something new. How different this is from politics. In politics, admitting your mistake is regarded as a weakness. In science, admitting your mistake, admitting that you're wrong is a strength. It would be great if politicians could learn from that. One of the other lessons of science is to examine your biases. You know, we have biases, uh, that, that, you know, we like to, uh, we agree with things we already believe in. If somebody says something about some aspect of politics, for example, that you already agree with it, it aligns with your ideology, then you accept it as true. But if someone tells you something that goes against what you already believe, you are more likely to dismiss it, to say, well, that's fake news or that's, and this is human nature. We do that. But you see, in science, we are trained to try not to do that. Yes, of course, in science, scientists still have a bias. I want my theory to be right. I, I, you will have to convince me very powerfully to, uh, admit that my last 10 years of research is all wrong. Nobody wants to admit that. But we are trained to, 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 to accept that maybe our view can be changed, that we should examine our own biases. When we argue with other people, maybe on social media, on Facebook or Twitter, we see polarization of views these days. Yeah. Everything's black and white. There's no gray. There's no nuance, uh, because people just want to win arguments. They want to score points. If, if scientists work like that, and of course, yes, some scientists do, but good science isn't about winning arguments. Good science is about finding the truth. And we live in a world today where we have so much information coming at us all the time through the media, through the internet, through social media, through, through, uh, um, the interconnected world we have. And it's very difficult to know what to believe and what not to believe. Most people therefore tend to exist in their echo chamber where they only listen to those voices that they already agree with. Uh, and we shouldn't try and move away from that. We should try and see the gray between the black and white to try and understand that actually many, uh, ideas and many issues in everyday life are more complicated than we would like them to be. Just like in science, the simple answer isn't always the correct answer. Sometimes you have to dig. You have to, therefore you have, we have to learn how to tell the difference between good information, bad information, misinformation, and so on. And that's not an easy thing to do, but the scientific method has allowed us to learn a lot about the world. And I, I, uh, my argument is that we don't all have to be scientists, but we can certainly take some of the lessons from how we do science to help us lead healthier, more, more fulfilling lives. I will carry on doing my science communication. Uh, I enjoy it, but I still also enjoy my research, learning about the world, trying to develop new theories. And, um, I can't imagine giving up either my science communication or my academic research. So I'd like to be able to do both. But overall, I guess my career is, has been about explaining. This is, I want to explain the universe to myself within science. I want to explain it to my students at university. I like to explain difficult concepts through my science communication, whether it's in broadcasting, whether it's in writing, whether it's in public lectures, whether it's in zoom recordings, like, like, like this one, uh, because science is wonderful. Uh, I've had a, a wonderful career in science. I hope it continues for awhile. And we need, but we need, we live in the, in a 21st century where we have many challenges facing humanity, not just the pandemic and, 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 and climate change, but many others. And I think science is absolutely central in finding solutions for humanity's problems. We certainly need the next generation to be inspired by science and to, to take on these challenges, uh, in the future. Thank you very much. Grazie. Parole limpidissime. Eh, nel sottolineo, ecco, alcune le ritroverete se avrete voglia di leggere questo libro, Gioia della scienza, che è appena uscito, eh, sarà segnalato poi bene anche nelle bibliografie che daremo a fine corso, insieme ad altri, eh, chiaramente di altri autori, sia giornalisti, divulgatori che scienziati e scienziate. Eh, mh, sottolineo semplicemente un paio di passaggi perché sono veramente fondamentali. E lui vi parla di embedding, cioè incastonare la, la voce della scienza nella chiacchiera al bar. Eh, questo è uno degli obiettivi che, utop in Italia, sono sempre un pochettino, eh, cioè un obiettivo che in Italia ha sempre visto un po' di timore, non lo so, eh, quasi come da un lato, e non ho, eh, il coraggio di parlare di cose complesse, che mi sembrano più complesse di quello che in realtà poi potrebbero essere se mi ci avvicinassi, e dall'altro perché, perché ovviamente abbiamo ancora questa onda lunga della, della, della divisione tra cultura umanista e cultura scientifica che chiaramente non esiste. Eh, l'altro elemento che ci tengo a sottolineare, eh, il, l'errore, la cultura dell'errore, ne ha parlato anche Lucangeli, eh, e questo è fondamentale, e in questo momento capire dove stanno alcuni errori che abbiamo commesso negli ultimi anni è determinante per cambiare rotta. Eh, io man mano che studio alcuni meccanismi dell'economia lineare, mi rendo quanti sfaceli, eh, abbiamo fatto, io sono boomers, cosiddetto, quindi in virtù del boom economico, in vista a inseguire il profitto e la dinamica economia lineare abbiamo davvero creato degli sconquassi e adesso la scienza ce li fa vedere, ma l'economia ancora non li sta vedendo e soprattutto non sta ammettendo, ok, quel modello non funziona, ne mettiamo su un altro. Ha funzionato per un po', eh, e ha giustificato, eh, adesso cambiamo e quindi passiamo ad altri modelli economici, perché sennò il mondo si incastra e soprattutto le persone ci vanno di mezzo. E la terza sottolineatura che mi permette poi di riprendere il mio discorso con voi è che, eh, lui parla di metodo e quello che vogliamo cercare di fare in questo corso è anche cercare di trovare un metodo per riconoscere i buoni libri di scienza, riconoscere le caratteristiche di alcuni libri e riconoscere l'origine della buona comunicazione di scienza, perché il problema, come in tutti gli ambiti, è che siamo pieni di comunicazione pasticciata, pieni di comunicazione manipolatoria e se io non ci sono troppo, eh, abituato a un certo argomento rischio chiaramente di, eh, scambiare una buona comunicazione per una pessima o viceversa. Quindi possiamo tornare sulle mie slide, per favore? Eccoci qua, grazie mille. Quindi, la comunicazione, diciamo, nella fascia intermedia, che sono le riviste di divulgazione, eh, quelle più alte, eh, faccio dei nomi semplicemente non per dire meglio o peggio, ma perché il tipo di, eh, comunicazione, eh, che è organizzata nelle riviste le rende più accessibili ad alcune fasce di pubblico o più accessibili ad altre fasce di pubblico. Qui sicuramente abbiamo le scienze, National Geographic, Sapere, eh, insomma, le grandi riviste, anche storie di comunicazione della scienza in Italia, le riviste di divulgazione più semplice pop, eh, Iron, Focus e altre riviste un po' meno di nicchia, oppure gli inserti che sono tuttora presenti o le pagine di scienza che ci sono sui giornali. Anche, eh, su questa articolazione poi si, si, si trovano diverse sfumature nei libri di scienze, perché vedremo, eh, delle collane decisamente molto alte, molto raffinate, con un pubblico di nicchia, perché bisogna essere sufficientemente addentro a quel tema per potersi godere quel libro, e altre collane decisamente più, eh, semplici da avvicinarsi e quindi anche più spendibili, eh, per, eh, per i vostri studenti. Quindi alcuni magari sono dei consigli che andranno bene per voi insegnanti, altri potranno essere più interessanti per gli studenti, le studentesse che avete in classe. Eh, sotto scritto information, dissemination, engagement, cioè con che scopo faccio questa comunicazione, possono essere più gli obiettivi. Caliglia ha detti alcuni. In Italia, per esempio, eh, da alcuni anni si è riscoperta, perché c'è sempre stata, ma è stata trascurata, quella che si chiama la terza missione, cioè le missioni dell'università sono ovviamente insegnare, ovviamente produrre ricerca scientifica del proprio ambito, ma anche comunicare, disseminare, raccontare a tutti quanti cosa avviene in quell'università, anche perché quell'università, eh, ragionevolmente viaggia su soldi pubblici, quindi è anche giusto che l'università possa, eh, servire al di là degli iscritti che sono lì per, eh, laurearsi. E quella che appunto si chiama public engagement, terza missione, ogni università ha trovato poi nomi diversi, eh, però public engagement è quello che in qualche modo va per la maggiore, mi sembra, e che vuol dire, mi ingaggio, cioè mi metto in gioco, mi metto in discussione, mi metto a disposizione, cerco di raccontare quel che faccio nel mio laboratorio, eh, ma questo vale anche per gli studi di storia, di filologia romanza, e non è una cosa soltanto legata alla, alle facoltà scientifiche in senso stesso. Eh, ovviamente, eh, i perché, i modi cui possiamo andare a raccontare, sono tanti, questa appunto parlava, eh, come diceva Calili prima, di capire la correlazione, le causalità, se ci sono o non ci sono, tra l'aumento della temperatura e l'aumento della quantità di CO2 nell'aria, con lo scorrere del tempo. Eh, ovviamente ci sono cose più semplici, nessuno di noi, quando sai un aereo, credo, va a contare le ruote su cui quell'aereo è appoggiato a vedere se 12 o 24, sono tante o sono poche, ci avrà presto qualcuno, quindi a volte noi abbiamo estrema fiducia al metodo scientifico, e questo oggetto lo usiamo, e non ci preoccupiamo di compi di tanto, di come funziona, ma basta che funzioni, mi allarmo e mi, diciamo, imbizzarrisco quando non funziona, ma funziona perché c'è dietro un metodo, perché c'è dietro un lavoro di scienziati e una serie di studi scientifici, da Maxwell a Marconi, eccetera, eccetera, che hanno studiato il modo con cui quelle onde viaggiano e che cosa quelle onde si caricano a bordo per trasportare i nostri messaggi. Ovviamente quello che è sempre molto importante, gli scienziati nelle loro, diciamo, modalità di approccio, di racconto e di confronto ce l'hanno ben presente, il punto di vista, avere sempre lo sguardo d'insieme e quando non ce l'ho io, ce l'ha qualcuno per me o qualcuno mi aiuta a ricordarmi di averlo, esattamente il contrario di quello che ci fanno fare i social media in questo eco chamber, le camere dell'eco che a Kalevi citava, perché appunto vedere soltanto da un unico punto di vista, peraltro molto stretto, molto veloce, molto fugace, chiaramente non ci fa capire la complessità del problema. Noi dobbiamo anche ricordarci che, allora, noi siamo qui, cioè vedete, spero che il puntatore si possa vedere, noi siamo gli umani, siamo lì e questo è tutta la presenza della vita, per quanto la conosciamo sulla Terra, ci sono 3,8 miliardi di vita sul pianeta in questa gigantesca tavola, tutto nasce da un antenato comune, un mucchietto di cellule e noi siamo gli ultimi arrivati. Anche questo è un punto di vista che bisogna ricordarsi di avere, perché come spesso uso dire ai ragazzi, non dobbiamo salvare la Terra, la Terra se la cava da sola. Ha già avuto 5, diciamo, sconquassi, 5 estinzioni di massa, l'ultima quella con i dinosauri, quasi sicuramente con meteorite, e ci fosse la sesta. Come alcuni stanno effettivamente osservando, stia già accadendo, ci fosse una sesta estinzione di massa in cui anche noi, sapiens, sparissimo, a Terra avanti lo stesso. Quindi bisogna appianare, salvare il pianeta. Dobbiamo salvare noi stessi da noi stessi fondamentalmente. Ma anche il modo in cui raccontiamo le cose, poi torneremo sul tema della comunicazione ambientale in particolare, è fondamentale. Quindi se non c'è un'alleanza, vedo nelle chat che alcuni mi stanno chiedendo alcune cose sul linguaggio, gli scienziati hanno bisogno di allearsi con chi sa raccontare le cose. Che in certi casi sono i giornalisti, i divulgatori, i narratori, dietro chiaramente molti libri ci sono degli editor specializzati che aiutano lo scienziato a confezionare la sua comunicazione in virtù dello stile di quel libro e in virtù del pubblico che vuole raccontare quel libro. Parleremo di comunicazione e la scienza per bambini, per ragazzi. E quindi c'è una serie di mestieri che hanno a che fare con la qualità della comunicazione, con la narrazione, con il lessico, che possono essere messi servizi. Ecco perché più intrecciamo le due culture e più le cose funzionano. E non parlo soltanto di narrazione e di lingua, ma la musica, l'arte, il cinema, la fotografia, il design, il disegno, le graphic novel, cioè tutto può essere utile e tutto va messo a servizio della comunicazione. Arriviamo appunto qui al punto dolente di quel meccanismo che abbiamo visto all'inizio, perché a un certo punto, man mano che gli scienziati si allontanano come protagonisti della comunicazione e i giornalisti scientifici, diciamo, rimangono nelle loro testate, si passa alle redazioni più generaliste dei giornali, ma questo vale anche dei rotocalchi, vale anche per chiaramente la televisione, eccetera, eccetera, dove i giornalisti scientifici pian piano spariscono, su, se non ero, quasi 40.000 iscritte all'ordine dei giornalisti in Italia, quelli che sono di scienza ufficialmente dentro l'ordine sono 5.600, quindi una cifra ridicola, tant'è che molti comunicatori della scienza manco si iscrivono all'ordine dei giornalisti, perché non è ritenuto una cosa né indispensabile né utile, e quindi molti giovani comunicatori che fanno un lavoro fantastico, alcuni li sentiremo, alcuni sono gli autori dei libri che vi consiglieremo, vi suggeriremo, in realtà sono dei giornalisti scientifici, ma che decidono di non iscriversi all'ordine, ed è un peccato da un lato, perché sarebbe una miglioria della qualità del lavoro dei giornalisti, ed è un peccato dall'altro perché se non sei iscritto all'ordine, io faccio più fatica a riconoscerti, perché ovviamente sei uno dei tanti che parla e devo fare fatica a riconoscere, devo mettere l'impegno a riconoscere le tue fatiche. Scusate ancora un attimo, poi c'è, si arriva in una zona che è messa un po' zona rossa, un po' di pericolo, dei giornalisti generici e degli autori, che non sono giornalisti, e quindi sui social, in molte redazioni televisive, in molte redazioni di pseudo giornalismo, di nuovo mi prendo la responsabilità di quel che dico, le Iene, Osticia Notizia, o queste altre trasmissioni, che sembrano occuparsi dei problemi del mondo, con un piglio molto battagliero, quasi da Robin Hood, quasi da Don Quixote, non hanno giornalisti, raramente hanno dei giornalisti. Questo cambia qualcosa, molto, perché il giornalista avrebbe un approccio legato alla tutela della qualità delle notizie, delle fonti, del rispetto ai protagonisti, e lì la, diciamo, la dinamica pseudo giornalistica, in realtà, mira semplicemente a creare clamore, a creare indignazione, a creare audience, e basta, ho finito lì, quando ho raggiunto questi obiettivi, non mi interessa. È vero che qualche volta sollevo il vaso di Pandora? Verissimo. È vero che qualche volta trovo qualche truffatore, qualche cosa storta? Altrettanto vero, ma è anche il processo che basta guardato. Altrimenti diventa abitudine il clamore, diventa abitudine l'eccesso, diventa abitudine anche l'aggressività del giornalista, del finto giornalista, proto giornalista, pseudo giornalista, conduttore, più o meno vestito di nero o con altri abbigliamenti, che diventa così aggressivo da non riuscire nemmeno a tutelare la dignità della persona, che magari è innocente o meno, ma chiaramente non spetta al giornalista indagarlo e determinarlo in quel momento. Vi propongo questo piccolo test, lo leggete in un attimo, e poi lo commentiamo insieme. Questo magari provate anche a farlo in classe, dopo vi spiego come è nato. Io sono anche socio del CICAP già da tanti anni, ovviamente CICAP fondato da Piero Angela non a caso, che aduna tantissimi scienziati e scienziati che si occupano di pseudoscienze, cioè di intanto svelare i ciarlatani e svelare le cose finte che suonano scienza ma che di scienza non hanno niente, e soprattutto poi di lavorare sul metodo scientifico, sullo scetticismo, lavorare contro la diffusione delle fake news, ma soprattutto riconoscendo prima in anticipo le fake news. Questi sono dei test che a volte si fanno, anche per dimostrare un pochettino come funziona la nostra mente, la nostra abitudine a leggere notizie. Chiaramente credo che la prima frase che ribaldi a un filosofo medievale vissuto alla fine del Seicento, scrisse i promessi sposi, abbia fatto saltare tutti sulla sedia. Ci sono quattro macroscopici errori e in due righe subito tutti ci accorgiamo. Magari qualcuno, se vado a farlo per strada, forse non collega che alla fine del Seicento non è già più il Medioevo, eccetera eccetera, però diciamo che è una roba che non sta in cielo e in terra per la cultura media italiana, questo è chiarissimo, praticamente all'istante. La seconda frase ha degli aspetti, già devo pensarci un po', intanto marmo e etna non c'entrano niente, sono due tipi di rocce che hanno strade diverse, geologicamente parlando, e quindi se tu sei stato vicino a un vulcano, hai un po' di esperienza della tua regione, di quello che è il marmo, piuttosto che una roccia efflusiva, eccetera eccetera, te ne rendi conto. Forse anche ti rendi conto che quel 1500 miliardi di anni non suona benissimo, il nostro universo ne ha circa 15.000, un po' più, un po' meno, la nostra Terra ha 4,6,7 al massimo miliardi di anni e quindi le cifre sono sbagliate, però sulle cifre è una cosa in cui tutti prendono delle cantonate giganti perché uno zero in più o in meno sembra non faccia differenza, per uno scienziato invece è qualcosa di enorme, sul carbonio 14 spesso non si rende conto che è un errore, il carbonio 14 serve, cioè agisce su qualcosa, a ritracciare qualcosa che fu in un reperto quando quel reperto fu eventualmente vivo. Una roccia non è messa viva e quindi è chiaro che non può essere datata, ci sono altri metodi per datarla, ma non con il carbonio 14, che serve per una mumbia, per un tessuto, per un residuo magari di cibo per esempio o di qualche altra cosa che è stato vivente a un certo punto prima di fossilizzarsi e mummificarsi. Quindi però tra la prima e la seconda che contengono errori diciamo di ugual grandezza dal punto di vista della cultura letteraria, umanistica o scientifica, in realtà ci sono tempi diversi di reazione e non è detto che sulla seconda tutti arrivino a cogliere tutti e tre gli errori. La terza, invece, forse qualcuno si sarà chiesto cos'è, cosa serve, eccetera. Beh, quella è una cosa che potrei scrivere io se il mio caporedattore di un tempo mi mandasse a vedere una partita di calcio la domenica. Io di calcio non so niente, non mi interessa, amo moltissimo lo sport, altri sport, ne ho fatti altri e quindi se mi mandi a vedere il basket, la pallavolo, il ciclismo, il tennis, me la cavo. Sul calcio proprio faccio una fatica, cioè tanto che io potrei scrivere quello, che sarebbe una cronaca corretta, perché vedo, ci sono sciarpe varie pinte, un sacco di gente che urla, uno in particolare dentro con un fischietto che mi ricorda quello del capotreno, perché è la mia esperienza, avendo preso più di una volta un treno, conto ci sono 20-22 ragazzi in pantaloncini che li dicono per una palla ci danno un sacco di botte, conclusione, diamogli 22 palloni. Dal punto di vista della narrazione, della cronaca, non ho detto niente di sbagliato, però se provassi a presentarmi in redazione con una resoconto del genere, mi caccierebbero a calci, se per caso questa cosa, perché adesso con i telefoni molti giornalisti mandano in linea, pubblicano da soli, senza il filtro, il passaggio del loro caporedattore, eccetera, eccetera, ci sarebbe una rivolta tra il lettore di quel giornale, perché tutti salteremmo sulla sedia e tutti direbbero Andrea sei un incompetente, che è vero, io di calcio sono un totale incompetente. Però, proprio perché su alcuni temi tutti ci accorgiamo dell'incompetenza del giornalista di turno, ahimè, se facciamo questa analogia al contrario, sulla scienza non ci accorgiamo dell'incompetenza, perché siamo incompetenti noi, perché entrare in un lavoro di ricerca, parlare con uno scienziato, capire a che punto è un esperimento, sapere se c'è il peer review o meno, sapere cosa vuol dire pubblicare per uno scienziato, che non vuol dire la stessa cosa che direbbe un giornalista o un narratore o pubblicato un libro o pubblicato un articolo, ci sono delle differenze proprio semantiche, ma anche di sintassi, di grammatica, sono due mondi che naturalmente, quello del giornalismo e quello della scienza, farebbero fatica a parlarsi. Ecco perché ci sono i giornalisti scientifici in mezzo, che sono poi anche quelli che scrivono i libri, che sono gli editor delle case editrici, editor specializzati, chiaramente nella divulgazione scientifica, perché molto spesso c'è proprio bisogno di un'intermediazione fra due linguaggi che a volte lo scienziato impara a fare, Alcalili è uno di questi, e gli altri che vi presenteremo nelle prossime volte sono di ugual livello, ma la stessa Lucangeli e Pievani sono stati bravissimi nel raccontare in modo accessibile il loro mestiere, le loro ricerche, quando questo non avviene, quindi quando è il cronista generico, che è un bravissimo cronista, sa fare benissimo il suo mestiere, ma non entra in un laboratorio come io entrerei allo stadio alla domenica, completamente spaesato, vede delle cose, le appunta sul taccuino, scappa via perché è tutto ormai di super fretta, non ha tempo di capire, non ha tempo di fare domande, non ha tempo di ascoltare. Quindi il problema della comunicazione della scienza, quando esce, diciamo, dalle mani degli scienziati e dalle mani dei giornalisti, dei comunicatori, degli editor, è che chi la prende in mano non la sa maneggiare, non perché sia incapace, ma semplicemente perché è un'altra roba, è un'altra materia. E quindi riconoscere l'origine di quel lavoro, ovvero chi c'è dietro, chi ha scritto, chi ha corretto, quale è la tradizione di quella casa editrice, quale è la tradizione di quella testata giornalistica, è importante, è una cosa da fare, perché noi non possiamo andare così, a mangiare in una pizzeria, prendere una pizza che ci sta a fare, ci sta, ci fa venire il mal di pancia e ci torno il giorno dopo, e il giorno dopo, e il giorno dopo. Se un cibo, un piatto in quel ristorante mi ha fatto venire il mal di pancia, non ci torno più. Lo stesso dobbiamo cominciare a fare per quello che leggiamo. Se una roba che ci mettiamo in testa ci fa venire il mal di testa, ma ci avvelena, ci inquina il pensiero, noi dobbiamo accorgersene e tenerci alla larga da quella fonte di informazione. E chiaramente, quando parlo di noi, chiaramente voi che mi ascoltate in quanto insegnanti, ma soprattutto tutti i vostri studenti in classe. Perché sottolineavo il fatto dell'ordine giornalisti? Perché poi, chiaramente, quando questa cosa avviene nelle redazioni, dove ci sono altri tipi di autori che preparano i copioni, che preparano le interviste dell'intrattenitore di turno, del presentatore, presentatrice di turno, che intervista qualcuno, che vanno a scegliere le persone da intervistare, è chiaro che la cosa si amplifica, perché se già il cronista non scientifico è in difficoltà a parlare di scienza, perché non la sa maneggiare, ancora di più può esserlo, può esserlo, non deve esserlo, ma può esserlo, colui o colei che poi si occupa delle trasmissioni di intrattenimento più generico e a più ampio spettro, i classici contenitori. Il fatto di essere giornalista almeno dovrebbe garantire che quel giornalista, quella giornalista avrà letto e si ricorda il percorso di giornalamento professionale, glielo rimarca, che ci sono dei doveri, perché c'è una carta etica, c'è un testo unico dei doveri dei giornalisti, ci sono delle disposizioni di legge, il giornalista è scritto all'ordine, come qualsiasi professionista è scritto al suo ordine professionale, deve stare alla legge, deve sapere il suo mestiere, l'ingegnere deve sapere fare il calcolo del cemento armato se vuole tenere su quella casa o del legno se vuole farla di legno e deve essere aggiornato a tutte le disposizioni di legge che prevedono che quella casa sia sicura e che chi la compra ci sta dentro tranquillo e paccioso e non rischia di farsi male perché gli crolla l'improvviso giorno dopo. Quindi, tutto lecito, tutto giusto quanto libertà di espressione, ma quando questa libertà di espressione passa attraverso il giornalista ci deve essere un'attenzione alla qualità del prodotto, non è una censura, è un'attenzione al processo, un'attenzione alla qualità del prodotto perché è il giornalista che deve scegliere la fonte, cioè chi far parlare. Il giornalista non sa tutto. Io posso essere, io personalmente, Andrea, posso essere appassionato e avere un po' di competenza su alcune materie, ma se devo parlarne vado alla fonte, cioè vado dallo scienziato e della scienziata che sa al meglio quella cosa che io ho bisogno di raccontare, che desidero raccontare al mio pubblico. E scegliere la fonte è uno dei doveri anche etici, non solo di legge del giornalista e della giornalista. Il problema, di nuovo, è che se io non so la differenza, non so distinguere, a questo punto se una fonte funziona perché messa in televisione per esempio fa il suo effetto, io la utilizzo perché funziona, perché uno dei miei obiettivi è fare audience e avere il pubblico. Se quella fonte o quella notizia ancorché verificata funziona perché mi fa fare tanti click o meglio ricevo tanti click sul mio giornale online, sull'articolo che ho appena messo, non mi preoccupo più di tanto quanto sia corretta, autorevole, esperta, perita, terza, cioè non abbia niente diciamo a che fare non abbia interessi personali su quell'argomento. Quindi il riconoscere uno scienziato che è uno scienziato del clima o un geologo e intervistarlo perché sei un geologo e non ti intervisto sui polpi, se ti voglio parlare di polpi vado a cercare un altro esperto, uno zoologo marino, un biologo, un ricercatore che fa quello e visto che con il web e con questi telefoni trovare le persone non è difficile perché possiamo trovare chiunque nel giro di pochi istanti, il problema è perché non lo stai facendo? Su questo non mi dilungo oltre ma secondo me è una bella attività da fare in classe che vi posso anche suggerire, prima magari guardatevi questi due spezzoni che vi ho segnalato, una è una puntata di carta bianca, una trasmissione di approfondimento di Rai 3, una puntata del 7 giugno del 2022, la puntata dura quasi tre ore, due ore e cinquanta, due ore e quaranta, verso due ore e diciassette minuti c'è l'intervento, viene invitato come ospite Luca Mercalli, si parla di siccità, siamo a giugno dell'anno scorso, quindi abbiamo il problema che manca l'acqua d'estate, Luca Mercalli fa il suo intervento, però vi consiglio di osservare, di commentare con i vostri studenti come si comporta la conduttrice, che è una giornalista pubblica, pagata con i soldi miei e che dovrebbe ricordarsi che la carta etica vale per lei, il testo unico dei giornalisti vale anche per lei, e quali sono le persone messe a commentare o a fare da dibattito con Luca Mercalli. Qui c'è un altro punto che ci tengo a sottolineare, è giustissimo, fa parte dei cardini nel giornalismo avere il contraddittorio, cioè due persone che nel rispetto reciproco portano i propri argomenti e si cerca di, con l'aiuto della mediazione del giornalista, far capire al pubblico la posizione dell'uno, la posizione dell'altro, il problema di qua, il problema di là e poi il pubblico, l'ascoltatore si fa la sua idea. Il tema è, ma dobbiamo ancora discutere del cambiamento climatico, per esempio, se io prendo questa penna, adesso la metto qua e la lascio cadere, cade. Non posso pensare di mettermi a discutere o di dire ma c'è un caso in cui la penna se ne andrebbe dopo un attimo tornerebbe al suo posto. E' quello che diceva già un po' Telmo Pievani, cioè ci sono degli aspetti e sono anche i fatti che citavo un attimo fa al Calini che sono fatti. Non posso mettermi a discutere ogni volta e soprattutto se creo un contraddittorio su una cosa che non è da discutere, che tipo di servizio sto dando a chi mi ascolta? Cioè metto in dubbio il lavoro di migliaia di scienziati che si mettono in dubbio da soli, lo abbiamo appena detto, e che possono essere metti in dubbio ma non semplicemente perché una persona assolutamente non competente seduta in una poltrona a fianco dice ma guarda di quel tuo gruppo di scienziati secondo me non c'è tanto da fidarsi perché questo poi sono le cose che succedono. Guardatevi carta bianca guardatevi anche un'altra puntata ancora più emblematica di otto e mezzo 28 settembre 2019 dove c'è uno scienziato perché è adesso in pensione è stato un insegnante dell'università italiana che però è noto perché viene spessissimo invitato a discutere su cose che non ha studiato che non sono la sua materia che può aver letto meglio di altri perché sicuramente è una operazione scientifica più alta della media degli italiani ma discute fa delle affermazioni che i suoi colleghi riescono facilmente a smentire perché no guarda 1 2 3 4 5 se ci sono n.mila lavori scientifici che ti dicono che quella cosa che hai appena affermato è falsa o è una falsa correlazione o stai mettendo insieme cavoli e cipolle eccetera eccetera anche in questo caso la funzione di questi personaggi non è quella di dare un'informazione ma quella di creare una discussione che mi chiedo a cosa serve a che tipo di abitudine a che tipo di discussione ci va abituando e quindi guardatela in classe diciamo che entrambe funzionano dalla seconda terza media in poi più piccoli forse farebbe un po' più fatica a capire però mi sembra un bel esercizio per ragionare e riconoscere le fonti anche perché ripeto in qualsiasi momento c'è qualcuno che parla in televisione dice delle cose si dichiara scienziato lo cerco qua lo trovo e lo trovo se esiste lo trovo e lo apprezzo se esiste e fa il mestiere che dichiara e l'esperto delle cose che dichiara di essere su cui è esperto come sta dichiarando in televisione quindi per raccontare la scienza nei libri c'è un mix di queste cose c'è sempre un approccio che può essere anche da giornalista cioè va a cogliere la notizia la novità il taglio diverso c'è una scrittura che è quella spesso molto narrativa c'è la chiarezza dell'insegnante c'è la metodologia e il rigore dello scienziato c'è un po' il fatto di poter spaziare sia sui generi narrativi che usare immagini che usare come appunto anche in altri prodotti editoriali tipo il podcast o il video tutta una serie di altre strategie comunicative c'è ovviamente la sintesi perché i libri non possono essere infiniti e c'è tanta passione come esattamente quella che traspariva benissimo dalle parole di Alcali vengo ancora a dieci minuti e poi lasciamo spazio alle domande ce ne sono alcune che sto guardando un pochettino con la coda dell'occhio scusatemi se di tanto intanto abbasso lo sguardo ci sono appunto libri di scienza per bambini e ragazze intanto fanno parte di una scatolone diciamo così che su alcuni testi su alcuni corsi dedicati al mondo dell'editoria della produzione libraria vanno definiti information literacy che consentono a un lettore di imparare teoricamente da solo ma non necessariamente da solo perché il libro lo leggo da solo il libro di divulgazione è chiaro il testo in classe lo leggo anche da solo ma è un testo fatto anche spesso per essere letto insieme cioè la sua funzione è quella di essere usato in classe come a casa quindi ha una dinamica una fruizione diversa però è anche vero che moltissimi libri molti insegnanti sono abituati anche libri di narrativa sono abituati a leggerli a voce alta perché è una cosa che sappiamo tutti essere molto importante fare sempre tutta la vita non è soltanto una cosa da bambini da materna da elementari perché non sono ancora veloci a leggere la lettura a voce alta anche le superiori anche tra gli adulti è una cosa che fa piacere perché leggere è diverso da sentire la voce di un'altra persona che mi arriva attraverso le orecchie le aree del cervello sono diverse le sensazioni le sfumature sono diverse sono importanti chiaramente entrambe le cose però sono libri che hanno la loro autonomia ovviamente libri di scienza per ragazzi per bambini perché nascono come tutti i libri per essere fruiti abbastanza in autonomia diciamo da soli sono libri però che in certi casi lo vedremo fa poco hanno funzionano cioè funzionano meglio se me li guardo in gruppo i libri di esperimenti sono belli perché li uso insieme ai miei amici al pomeriggio o li uso in classe perché la maestra l'insegnante mi ha portati e stiamo facendo una cosa insieme è un'imbeccata per fare qualcosa insieme sono libri che hanno come obiettivo far padroneggiare delle risorse informative per diventare cittadini antivi quindi sono un po' come la saggistica per certi aspetti però hanno sicuramente una focalizzazione a volte molto sul pratico lo diceva Alcalini mi leggo una bella trattazione su quello che è il tema della geodiversità che noi ci dimentichiamo perché esiste la biodiversità ma la biodiversità non sarebbe nulla se non la geodiversità e forse quando vedo un prato che diventa un parcheggio mi preoccupo perché ho coperto con dell'asfalto del suolo e questo suolo che succede che fine fa soffoca cosa mi sono perso rinunciando a quel prato e quindi trasforma cioè da una lettura in due tempi prima leggo poi qualcosa spero capiti nel mio cervello e mi viene voglia di fare qualcosa di agire tutti i libri hanno questo movimento perché tutti i libri sono trasformativi lo sappiamo a volte sono trasformativi sulle emozioni a volte sulle relazioni quelli che riguardano altre sfere della nostra vita delle nostre relazioni con gli altri e i libri di information liter e di scienza tendono anche a rendere diciamo un'azione a innescare un'azione che diventa spesso a vantaggio della comunità ovviamente sono libri che vogliono suscitare passione e dimestichezza familiarità verso le scienze anche su questo sottoscrivo non bisogna essere laureati in qualunque cosa io posso dopo domani andrò se tutto va bene a sentirmi un concerto di Chopin qui all'Unione Musicale di Torino ma io non sono un esperto di musica conosco appena Chopin però vado lì e mi faccio riempire le orecchie vedo i musicisti che sono lì all'opera quello strumento che tra quelle mani lì e solo quelle tira fuori una roba fantastica se lo prendessi io avrei paura di romperlo ma questo non mi toglie anche la mia ignoranza fondamentalmente in fatto di musica classica e musica da camera non mi toglie il gusto di andare a sentire e il mio cervello peraltro ne esce arricchito perché ci sarà qualche sinapsi in più quando riesco da quella sala e di nuovo io non ho mai spiegato musica di musica non so niente a malapena ho fatto un po' di esercizi di flauto alle medie con parecchi disastri e la chitarra da suonare sulla spiaggia per diventare un po' cosino popolare nel mio gruppo era un bel sogno ma giocando a palacanestro mi rompevo sempre le dite e quindi la chitarra ciao non era certo il caso di suonarla in quegli anni quindi ci sono delle dinamiche che sono vantaggiose a prescindere che tu sia esperto appassionato molto diciamo informato su un determinato argomento anche perché l'obiettivo è quello di sviluppare il senso critico lo scetticismo costruttivo di cui parlava anche Telmo Pievani che è un po' anche l'anima di tutto il lavoro che fa il CICAP ed è sicuramente anche uno degli obiettivi primari della scuola di tutti i tipi provando a dare un'organizzazione per tipologie cioè immaginando uno scaffale perché poi è questo che in qualche modo spero di fare quando faccio questi corsi per i bibliotecari o per gli insegnanti nelle singole scuole negli singoli plessi cioè negli singoli istituti compressivi cerchiamo anche di costruirlo poi questo scaffale questo scaffale come una buona dispensa deve avere un po' di tutto sicuramente ci sono i libri sistematici quelli che dinosauri dall'allazeta non ne manca nessuno sono un po' encipiopedici magari hanno un taglio più 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 narrativo più descrittivo più scientifico dall'allazeta per i gruppi per i sottogruppi eccetera eccetera però diciamo che hanno un approccio sistematico appunto per cui di quella materia non manca niente ovviamente non manca niente rispetto all'età a cui mi sto riferendo ma sui target faccio poi una considerazione fra un attimo e altri libri ci sono rappresentativi cioè anziché parlare di tutti i fiori del prato quindi tutti i fiori che posso trovare su un prato alle latitudini italiane e delle differenze che trovo su un prato a Bolzano e su un prato nella Sila o a Trapani invece ho una rappresentazione quindi ho il mondo del prato che è composto da tante cose perché ci sono i fiori ci sono gli insetti ci sono lombrichi e altri insetti che vivono nel sottosuolo ci sono dei ragni ci sono ovviamente dei piccoli anfibi per esempio ci sono delle lumache ci sono degli uccelli che vengono a cercare di cacciare qualche insetto ci sono dei predatori degli uccelli eccetera 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 quindi ho una rappresentazione di uno spaccato e lo guardo anche al di là delle discipline l'approccio il libro sistematico chiaramente è disciplinare e rispetta molto quella disciplina o l'organizzazione di quella disciplina e non ne esce perché rispetta tra virgolette dei confini che non sono dei limiti ma semplicemente sono degli argini perché da lì in poi ci sono degli altri incastri possibili ma che rimandiamo ad altri libri il libro rappresentativo invece scavalca qualunque cosa e parte da un soggetto da un luogo da un'azione da un problema anche l'inquinamento dell'aria o il suo riscaldamento per eccesso di gas ad effetto serran tropici e una rappresentazione che può essere diciamo il motivo perché un libro esiste e ovviamente interseca tutte le discipline interseca tutti gli scienziati e le scienziate con il loro lavoro hanno dato un contributo sono libri narrativi ovviamente quindi posso usare la narrazione Safran Foer Amitav Ghosh sono degli ottimi narratori dei apprezzatissimi anche romanzieri che si sono prestati a raccontare di questioni scientifiche Safran Foer si è interrogato a partire dalla sua storia personale della sua famiglia sugli allevamenti intensivi di carne e sull'uso scriteriato o moderato dei voli aerei anche intercontinentali eccetera 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 quindi questa è una parte che sta crescendo perché la narrativa non si metteva non si accostava troppo alla scienza però per esempio i libri di fantascienza sono delle storie sono delle narrazioni moltissimi passaggi di alcuni libri di Piero Angela tanto per dire sicuramente uno dei più apprezzati scrittori di divulgazione scientifica in Italia partono da un racconto perché noi siamo fatti di storie lo sappiamo bene quindi usiamo le storie anche per raccontare di scienza io stesso ho cominciato a scrivere libri 35 no 32 anni fa libri per ragazzi gli ultimi che sto facendo sono più sempre di narrativa quella che si chiama narrative non fiction dove appunto non invento niente quattro ragazze che vanno in Puglia a scoprire la vita delle tartarughe ma mentre scoprono la vita delle tartarughe si accorgono del mare parlano con i pescatori scoprono la plastica scoprono la diciamo la pesca eccessiva eccetera 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 quindi un'avventura di quattro ragazzi che diventa il modo per avvicinarsi ai problemi ai malanni del Mediterraneo oggi ovviamente ci sono dei libri forse anche molto noti operativi sperimentali classici libri di esperimenti che a loro volta possono essere sistematici tutti esperimenti con l'acqua o rappresentativi tutti gli esperimenti che possiamo fare in cucina dove c'è l'acqua c'è il sale c'è il detersivo ci sono i piatti ci sono degli strumenti c'è il forno c'è il forno a microonde c'è il gas e quindi la cucina è di per sé un classico laboratorio posso dedicarmi a fare rigorosamente esercizi ed esperimenti su una sola disciplina o con un solo materiale con un solo soggetto oppure posso usare un ambiente e imparare tutto quello che diciamo esplorare tutte le opportunità che quell'ambiente mi offre ci sono libri poetici perché tutto quello che anche questo è una cosa degli ultimi 10-15 anni tutto quello che è ovviamente la narrazione ma anche il silent book ma anche il design di alcuni libri le storie che dei più piccoli che raccontano diciamo in maniera semplificata esemplificata come gira la vita intorno a noi spesso diventano libri di pura poesia che però hanno come punto di partenza e come light movie principale la scienza ovviamente questa fosse la parte più nuova ma lo è un po' tutto il mondo della letteratura i fumetti sono ovviamente sempre esistiti anzi ultimamente fortunatamente escono un pochettino da quel ambito di serie B o serie C in cui erano state variegati cioè relegati però il mondo del fumetto e del graphic novel stanno diventando per la scienza per la divulgazione scientifica una risorsa importantissima perché ovviamente il fumetto è essenziale velocissimo perché la graphic novel così come i manga sono dei linguaggi che i giovani possono apprezzare con piacere puro piacere anche gli adulti ovviamente però sicuramente sono strategie di comunicazione molto efficaci molto argute che si prestano volentieri anche anche CNR per esempio ha fatto molte comunicazioni sulla scienza del CNR utilizzando le graphic novel e il fumetto le biografie ecco qui apro una parentesi perché è una delle cose su cui veramente spero che il mondo della scuola cambi perché a scuola non c'è storia della scienza che è fondamentale perché io non posso capire Dante se non ho insieme studiato un po' di storia dell'arte un po' di geografia un po' di storia politica degli anni in cui ho vissuto perché se no quello che leggo non lo colloco noi invece in alcuni casi studiamo tutta la chimica in tre mesi in quell'anno del liceo o delle superiori e non so niente di quel chimico di quella di quella situazione quando è stata chi è la innescata cosa è successo quali cambiamenti ha portato quindi io sgancio la scienza dal tempo dall'epoca dal luogo dal contesto sociale economico culturale religioso in cui quello scienziato quella scienziata ha operato e ne perdo senso perché lo scienziato e la scienziata sono uomini e donne che vivono il loro tempo e come tutti come un artista come un musicista un letterato un poeta sentono l'influsso di quello che accade attorno a loro e la loro scienza le loro scoperte nascono dal fatto di essere persone di quel tempo e di quel luogo se io non le studio sganciandole anzi e sganciando anche il gesto scientifico dallo scienziato che l'ha originato io mi perdo intanto un pezzo di storia e soprattutto mi perdo anche un buon motivo per imparare perché poi se io parto da una storia sapete perfettamente come quelle vicende e anche quel sapere che in qualche modo viene agganciato alla storia umana diventano molto più presenti e sulle biografie c'è un sacco di novità tra l'altro molte anche al femminile ci sono interi collane di biografie di donne scienziate di donne STEM e quindi è sicuramente un settore da andare a osservare con mi fermo qua con grande attenzione possiamo chiudere le slide perché tanto abbiamo finito abbiamo finito anche il tempo quasi ma voglio lasciare spazio a alcune domande l'ultima considerazione ma anche su questo ci torneremo perché con tutti i nostri ospiti dei prossimi quattro incontri ragioneremo sui target che è una scelta importante anche questa è una considerazione abbastanza personale motivata perché parlo con tanti editori con tanti librari soprattutto e con tanti insegnanti noi siamo abbiamo un'editoria molto incasellata per cui abbiamo fasce di target molto precise 06 04 5 più 8 più eccetera eccetera abbiamo inventato anche questa roba che si chiama Young Adults che a me non mi convince tanto ma su questo lascio magari che andiate a cercare qualche riflessione che trovate su YouTube da parte di Fabio Geda che spiega meglio di me come questa fascia boh sia forse più un'etichetta pratica di marketing che un reale vero contenitore però tutta una serie di dinamiche che riguardano più o meno giustamente l'editoria generale e che aiuta attraverso queste caselle librai bibliotecari genitori eccetera eccetera a scegliere perché vado in biblioteca vado in libreria e dico oh mio figlio di 7 anni vuole questo e bibliotecario e libraio abbastanza vanno diciamo sul sicuro si rivolgono a una certa fascia dei libri per quanto riguarda la scienza io consiglio davvero di dimenticarsene un po' queste dinamiche perché è la passione del bimbo della bimba che fa l'età del libro io per tanti anni spero di tornare a farli se l'estate mi aiuteranno ho fatto campi estivi scientifici dove d'estate mi prendevo 30-40 50 ragazzi non da solo con altri bravissimi animatori scientifici stavano in una casa o a qualche parte a fare esperimenti tutta una settimana e lì avevo un bambino di 5-6 anni che faceva tranquillamente e serenamente esperimenti con uno di prima media perché se sono appassionati non sono 5 anni di età che fanno la differenza se sono appassionati di quel tema e hanno la capacità di leggere un bambino di 5-6 anni può godere di un libro che teoricamente è rivolto a uno di prima media così come uno di prima media magari può cominciare con un libro decisamente più piccolo per quell'età perché l'interesse fa la differenza e i libri come sono scritti sono chiaramente fatti per suscitare interesse con diversi gradi di complessità ma questo interesse questa complessità non è strettamente legato all'età anagrafica e al percorso scolastico supposto che c'è dietro quel bambino o quella bambina se sono appassionati hanno fatto molto di più e io credo che tutti voi in classe abbiate trovato di tanto in tanto quel qualcuno chiamiamolo piccolo nerd che su alcune materie ne sapeva davvero molto più dei compagni con molto più anticipo questo accade anche in altre materie ma nella scienza è più netto è più spiccato e non si tratta di gifted di bambini plus dotati eccetera eccetera per i quali giustamente occorre fare tutte le altre attenzioni sono semplicemente bambini e bambini con una grande passione e quindi quando scegliete un libro cercate di capire più la passione o la passione che voi vorreste istigare con quel libro e non state guardare troppo le tale classificazioni che magari il libro stesso si porta perché non è detto che siano davvero di aiuto io mi fermo qui abbiamo ancora qualche minuto per delle domande che ho visto arrivare e adesso cerco di ripercorrere alcune allora una giustamente nella mia scuola di cielo scientifico aderiamo al concorso divulgazione scientifica Asimov pur trovandoli affascinanti i ragazzi si lamentano che spesso non sono davvero libri divulgativi e con un linguaggio al loro livello è una questione di allenamento oppure di approccio poco mirato allora come sempre un libro scritto 40-50 anni fa o anche più risente del tempo e quindi anche quello che noi magari oggi chiameremo classico anche un calvino un pavese letto oggi ha un linguaggio che è diverso da quelle che appunto potrebbe usare Fabio Geda o non so Paolo Giordano quindi c'è una modernità del linguaggio un cambiamento del linguaggio e quindi ci può essere un allenamento o un linguaggio non attuale e c'è tanta fantascienza e soprattutto nelle riviste online ma io penserei anche di andare a guardare la fantascienza che arriva nelle serie perché tra serie di fantascienza serie distopiche c'è moltissima scienza che arriva attraverso la televisione che chiaramente non è come leggere un libro però di tanto in tanto può essere anche lì uno spunto per iniziare dei ragionamenti e quindi capisco la difficoltà è superabile sicuramente con un po' di impegno però si può anche tra virgolette permettetemi a girare andando su altre su altre tematiche la scienza ha capito di dover cambiare il linguaggio per raggiungere la maggior parte delle persone sì la scienza lo ha capito e lo sta facendo ovviamente la scienza è fatta da tante persone qualcuno più entusiasta arrembante carico di positività come Alcalili e come altri fondamentalmente chi scrive l'ibili di divulgazione scientifica è esattamente quel piglio lì e quindi i consigli che vi daremo sono tutti ottimi in questo senso seconda parte della domanda la scuola ha un linguaggio adeguato o dovrebbe cambiarlo se sì in quale modo scuola media la domanda io ve la giro vi sentite con un linguaggio adeguato allora i libri di testo hanno il loro linguaggio che è cambiato nel tempo e che si è appoggiato anche sulla multimedialità attraverso le lim attraverso altri apparati giustamente in uno dei commenti di prima io cennavo i programmi scolastici che ci sono i programmi scolastici sono un po' il gatto di giro cioè ci sono e non ci sono a seconda di chi li guarda di quando li guardi perché a volte sembrano essere dei molochi insormontabili a volte sembrano non esistere e tutti andiamo con la libertà dell'insegnamento l'ispirazione eccetera eccetera quindi non so la mia impressione parlando con tantissimi insegnanti leggendo anche molti blog di insegnanti è che è la persona che può rendersi conto che di volta in volta la persona l'insegnante c'è bisogno di con quella classe è un linguaggio diverso sicuramente chi lavora in classi di alcune parti d'Italia di alcune città forse dove c'è una mescolanza di provenienze di origini dei bambini magari nati qui da famiglie di altri luoghi addirittura arrivati qui da pochi anni è chiaro che lì c'è bisogno di un linguaggio diverso ma c'è bisogno non solo nella scienza anche per insegnare italiano o arte sicuramente ci sono delle dinamiche questo guarda più gli adolescenti che in qualche modo risentono dell'età e degli ambienti anche virtuali i social network domani è l'internet safer day e quindi si parla di quanto domani il 7 febbraio per chi ci ascoltasse la registrazione in un altro momento per chi appunto guardasse le influenze del mondo dei social sui ragazzi e sui adulti di oggi ma questo c'è sempre stato quando andavo io alle scuole medie c'erano le prime trasmissioni di cabaret serali che davano una sorta di modernità del linguaggio e ovviamente con l'insegnante italiano che saltava sulle barricate c'è fu anche persino visto che siamo anche in tempi di Sanremo in questi giorni ci fu una canzone che a me mi piace vivere e quel mi piace la mia maestra elementari ovviamente lo aveva cerchiato con n strisce rosse questo però fa parte un po' di qualsiasi materia di qualsiasi epoca la comunicazione e relazione la professoressa Lucangeli ti ha spiegato benissimo nella relazione devo cercare a un certo punto anche il linguaggio però ovviamente pretendendo un cammino di evoluzione del linguaggio da parte dei miei studenti io posso avvicinarmi perché all'inizio sono io che vado incontro però giustamente devo anche sottolineare pretendere in certi casi una voglia di cambiamento di evolvere perché se no il ruolo che avete in classe rimane di amiconi non lo so c'era ancora come sempre tutti i materiali li trovate poi sulla piattaforma del salone dove siete iscritti c'era ancora una domanda che riguardava l'interdisciplinarietà ovviamente sappiamo perfettamente come sia complesso come le ore siano sempre quasi da difendere con i cavalli di Frisia e come spesso appunto specialmente chi è un po' menore in quel percorso scolastico deve farsene bastare bene fino alla fine dell'anno io su alcune cose ho molta fiducia nel pensare di utilizzare anche altri tempi non quelli curriculari perché a volte una gita ben scelta o un'attività pomeridiana magari con qualche compito in meno non l'ho detto però forse c'è una ricerca della performance misurata attraverso le prestazioni in classe con i voti e a casa con i compiti che a volte rischia di togliere spazio togliere fiato ad altre esperienze che proprio perché sono interdisciplinari è difficile dare il voto però diventano quella apertura e quella visione diciamo di curiosità che io auspico ma io semplicemente sono l'ultimo di portavoce tutti i personaggi che sentirete in questo corso vanno a sottolineare e quindi su alcune cose il lavoro che può fare il consiglio di classe nel gestire l'interdisciplinarità anche assecondando in qualche modo le varie diciamo indicazioni che riguardano le attività cittadinanza per esempio l'educazione ambientale che è sempre ufficialmente presente però poi non si sa bene chi la fa davvero chi può farla chi ha voglia di farla eccetera eccetera queste sono tutte le occasioni sono strafaticose assolutamente perché comunque il meccanismo non ci agevola non vi agevola io mi limito semplicemente a entrare in classe quando qualcuno di voi mi invita però sappiamo bene come se abbiamo scelto se avete scelto di lavorare per i ragazzi con i ragazzi occorre anche in qualche modo farvi di incista virtù ho preso qualche minuto in più scusatemi sto guardando a vedere se c'è qualche ultima domanda no va bene allora io come sempre a questo punto è l'ora di mandare in onda la parola chiave di questo terzo incontro eccola qua super qua che d'altronde abbiamo iniziato con Piero Angela e quindi con chi diamo con con super quark io ringrazio tutti quelli che come al solito lavorano dietro le quinte Giorgio Chiara Alessandro Maria Giulia Gianpaolo Tommaso che sono dietro a sorvegliare il buon andamento alla preparazione delle attività tra una puntata e l'altra e vi do appuntamento a lunedì prossimo con una serie di interventi che entrano nel vivo e quindi racconteranno di attività di esperienze che sono quelle che poi ci auguriamo possono esservi utili nella vostra attività ancora buonasera e vista l'ora buon appetito e a lunedì prossimo e a lunedì prossimo e a lunedì prossimo Grazie a tutti